Ciao a tutti e benvenuti su Macerix Tutorial. Avete ricevuto un messaggio whatsapp? Vi hanno scritto qualcosa? Che stavate per leggere? Vi hanno cancellato il messaggio? Bene, potete ancora recuperarlo. Come fare? Se volete leggere i messaggi scritti e eliminati, dovete necessariamente attivare nella sezione notifiche all'interno di impostazioni, quindi impostazioni notifiche. Scendete su impostazioni avanzate. Qui trovate cronologia notifiche. Dovete attivarlo. Ora il mio è già attivato. Basta cliccare sul pallino per renderlo attivo. Facciamo subito una prova. Dall'altro telefono mi scrivo. Ehi, ciao! Mi arriva il messaggio su questo telefono. Vedete la notifica arrivata? Io non ho ancora visualizzato nulla. Dall'altro telefono faccio elimina per tutti. Questo messaggio è stato eliminato. Se rientriamo su impostazioni, notifiche, impostazioni avanzate, cronologia notifiche, scendete, whatsapp, due notifiche. Ehi, ciao! Vedete? Se entro su whatsapp non c'è più. Questo messaggio è stato eliminato. Ma nella sezione cronologia notifiche è presente. Eccolo qua. Spero che questo video sia utile. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Macerix.